L'isolato dei numeri 3000 di Las Vegas Boulevard. Più conosciuto come il Bellagio, il Mirage e l'MGM Grand. Insieme sono i tre casinò più redditizi di tutta Las Vegas. Vediamo. Questo è il cavo del Bellagio. È al di sotto del manto stradale, sepolto da 60 metri di terra compatta. Custodisce fino all'ultimo centesimo che passa per ciascuno dei tre casinò sovrastanti. E noi lo svaliggeremo. Un colpo a Raffescappa, eh? Appena appena un po' più complesso. Ma certo. Questo è per gentile concessione di Frank Cutton, un nuovo banco di blackjack al Bellagio. Ok, prima le brutte notizie. Questo posto ha un sistema di sicurezza che può competere con molti silos di missili nucleari. Innanzitutto dobbiamo introdurci nelle casse del casino e chiunque vi dirà che non basta un bel sorriso. Poi dobbiamo attraversare queste porte, ciascuna delle quali richiede un codice a sei cifre che viene cambiato ogni 12 ore. Appena passate le porte, c'è l'ascensore e qui il gioco si fa serio. Non si muove senza un'identificazione autorizzata delle impronte digitali. Che non si può falsificare. E di una conferma vocale che proviene sia dal sistema di sicurezza del Bellagio che dal cavò di sotto. Che noi non avremo. E non è finita. Il pozzo dell'ascensore è munito di rilevatori di movimento. Se intervenissimo manualmente sull'ascensore, l'uscita dal pozzo si chiuderebbe automaticamente e noi saremmo in trappola. Una volta scesi in fondo al pozzo, beh, a quel punto è una passeggiata. Solo altre due guardie con mitra uzi e... La porta di cavò più complicata che mente umana abbia concepito. Qualche domanda? No, un tunnel è escluso. Ci sono sensori che controllano il terreno per un raggio di 100 metri. Se una talpa ci facesse la tana, quelli lo saprebbero. Qualcun altro? Avevi parlato di buone notizie. Sì. La commissione del gioco del Nevada stabilisce che un casino deve tenere in riserva abbastanza denaro per coprire il valore di tutte le fisci in gioco nelle sale. Questo significa che in un giorno feriale, per legge, deve tenere fra i 60 e i 70 milioni di dollari in banconote e monete. Nel weekend, fra gli 80 e i 90 milioni. Quando c'è un incontro di box, come quello fra due settimane e la sera che noi lo svaliggeremo, 150 milioni senza alzare un sopracciglio. Noi siamo in undici, tutti con una fetta uguale. Fate voi il conto. Esatto. Io avrei una domanda. Diciamo che entriamo nelle casse e passiamo attraverso le porte di sicurezza. Scendiamo nell'ascensore che non possiamo manovrare. Superiamo le guardie con i mitra. Entriamo nel cavo che non possiamo aprire. Senza farci vedere dalle telecamere? Ah già, scusate, ho dimenticato di dirvelo. Sì, mettiamo che riusciamo a fare tutto. Dopo ce ne dovremmo uscire belli belli, con 150 milioni di dollari in contanti, senza che nessuno ci fermi. Sì. Ok. Sì.